allora ragazzi qualche minuto fa è arrivato il corriere e mi ha portato un pacco problema era che io non avevo ordinato nulla su amazon io non ho ordinato niente ma è arrivato un pacco e quindi vi lascio alla reazione al pacco misterioso mi ci ha fatto rimanere leggermente male buona visione io scommetto che qui c'è lo zampino di rene perché è diversi giorni che strana essere allo zainetto che ordinato ma avrebbe detto domanda che cazzo è ho ordinato degli snack americani per provarli per fare il video assaggio no vabbè tra l'altro questa box è fatta da gennaro ottimo lavoro gennaro vabbè vediamo un attimo cosa c'è giusto per vedere toroncia graham fruit interessante puoi sapere qualcosa lei diversi giorni mi ha detto sai forse ti faccio una sorpresa guarda qua sotto gli snack voglio partecipare anch'io voglio partecipare anch'io non ci credo a questa tutta grazie di te l'ho detto mi puzzava io ti ho detto che la cosa mi puzzava perché c'era scritto fragile american angle qualcosa c'era però non pensavo perché quando ho sbattuta ce l'ha scritto non sbatterlo sbattuto un po per sapere cosa c'era era troppo pesante per solo zainetto di rene quindi signori se questi giorni vedrete un video assaggio con le palle ringraziate i rene grazie a tutti